È un Natale in bianconero, è vero, secondo posto, che non è proprio una posizione che di solito compete alla Juve o che sgrana chissà quali emozioni a tifosi della Juventus, ma questa volta il secondo posto speciale arriva con due momenti memorabili, una chiusura quasi, direi, di 2023, di anno solare 2023 con un balzo di fiducia vera dell'ambiente bianconero in vista della gara del 30 di dicembre contro la Roma in casa con uno stadion che non sarà solo gremito ma sarà appassionato a cercare di guidare questa squadra un'impresa ritenuta dai tifosi della Juventus, quasi impossibile, quella di competere per lo scudetto, davvero la parola continuerà a non uscire dall'ambiente societario e dall'ambiente, diciamo, più istituzionale nella comunicazione, incluso l'allenatore, ma continuerà invece ad aleggiare, a fare da stimolo, a dare in qualche modo spinta all'interno dello spogliatoio, questo ancora di più, dopo che il sigillo arriva dai due più attesi che sono stati messi in contrapposizione a inizio partita con la scelta clamorosa di Allegri di scendere il campo a Frosinone senza Dusan Vlaovic nonostante le mancate convocazioni di Ken e Chieson una Juve tirata, come dire, al limite con gli attaccanti, solo tre disponibili e uno è il cosiddetto ragazzino Kenan Hildiz. Allegri sceglie Hildiz, manda in panchina Vlaovic, vuole dare fiducia a Milik che era parso piuttosto contrariato e amareggiato nell'ultimo mese per lo scarso utilizzo giocano Milik e Hildiz, segna Hildiz e che gol! Dopo poco più di dieci minuti segna a dimostrazione che quell'etichetta di predestinato ha un senso e forse non è casuale se sono gli stessi addetti ai lavori che hanno lavorato con lui in passato, gli stessi ex compagni di squadra nelle trafili delle giovanili sia alla Juventus che al Bayern Monaco a dire ha qualcosa di diverso, questo ragazzo ha qualcosa di diverso, cosa è diverso si vede perché nel momento di esitazione del Frosinone, ma già Hildiz aveva avuto un paio di spunti, salta con una sola mossa, una sola finta, tre uomini e inchioda Turati il portiere del Frosinone sul proprio palo tirando di precisione, forza e rendendo quasi incolpevole il portiere che pure prende il gol sul proprio palo. La Juve va in vantaggio, addomestica un Frosinone molto deludente nel primo tempo, Frosinone praticamente non tira in porta, non riesce a far vedere nulla di quello che è stato il Frosinone fin qui. Sembra una partita a quel punto indirizzata eppure la Juve spesso succede quest'anno, troppe volte succede, quando torna in campo è un'altra squadra, a volte nel bene, a volte nel male, ma fa proprio un'altra partita, cioè si trasforma e tu non sai mai cosa ti trovi, ti trovi una Juve che guarda il Frosinone, lo guarda un po' con aria di superiorità, come se il compito fosse già stato svolto, già portato a termine. Nulla di più falso, succede che nell'addormentarsi della Juve c'è la punta d'orgoglio del Frosinone che non fa chissà cosa, ma trova una soluzione in stile di Francesco, palla giocata veloce nello spazio alle spalle della difesa della Juventus, un'esitazione colossale di Kostic e Danilo, direi soprattutto Kostic, autore di una gara dove è stato sì presente, ma praticamente non ha azzeccato una cosa che sia una, incredibile, la serie di errori tecnici e gli errori, mi verrebbe da dire logici, di lettura, di giocata, di esecuzione, una gara da 5, da 4 e mezzo quella di Kostic, allucinante, questa palla gli passa alle spalle, è un raso terra, spunta Baez, Scesni non sa bene dove si trova perché esce senza coprire lo specchio della porta, poi si può discutere se fosse giusto uscire in una palla comunque così profonda e laterale oppure no, sta di fatto che Baez vede la voragine, infila alle spalle di Scesni e iniziano i problemi, sì perché i problemi a Juve sono iniziati lì, non sono finiti lì, sono iniziati lì perché da quel momento la Juve va in difficoltà, in campo è disordinata, forse non ne prende fiducia, Sule che ha giocato una gara sicuramente al di sotto delle proprie potenzialità, condizionato dal fatto che probabilmente giocava contro giocatori che lo conoscono benissimo e che magari lo hanno bullizzato in chissà quanti allenamenti passato, trova però lo spunto per sfiorare 2 a 1, la Juve non è più solo guardinga, è anche un po' spaventata, deve ricorrere a una serie di cambi, in parte forzati, in parte per cercare sveltezza e brillantezza allegri, forzato l'uscita di Locatelli, ai noi entra in Colussi, un po' più votata all'imprevedibilità la scelta di chiamar fuori appunto Kostic per Ealing, nel frattempo entreranno anche UEA per un cambiaso a due volti, primo tempo da 6 e mezzo abbondante, secondo tempo da 5, quello di cambiaso che salterà Juventus Roma, la Juve aveva 4 diffidati, di cui 3 sono partiti titolari, il quarto è entrato dopo mezz'ora, parlo di Gatti, ebbene cambiaso ha preso il giallo e quindi dei 4 salterà la partita, gli altri erano Locatelli, Danilo e Gatti. Dicevo, i cambi non cambiano la Juve, però danno un po' di smalto, cioè danno quella capacità alla Juve di provare a ripartire, ogni volta provare a ripartire, anche spaccandosi in due, Frosinone accetta di giocare difensore in difesa, attaccante in attacco e svuotare il centrocampo per giocare un po' così a flipper, come piace a loro, la Juve fa la stessa cosa, lo fa con UEA a destra, con Ealing a sinistra e soprattutto con davanti una coppia che ha grande credibilità, grande peso specifico in un contesto come la Serie A e deve averlo per quanto ovviamente siamo sempre lì a criticare, ovvero Miric e Vlaovic, Miric gioca tanti palloni buoni, con intelligenza, manovriero e Vlaovic inizia a farsi vedere con costanza in area di rigore. Lotta, la prima palla sembra descrivere la maledizione che da diverse giornate sembra essere piovuta addosso a Dujan Vlaovic perché si libera, è una palla quasi all'altezza dell'area piccola, il difensore lo molla, lo lascia lì con palla sul sinistro e lui colpisce debole praticamente addosso a Turati che parla col piede senza neanche tuffarsi. Sì, tutti pensiamo male, pensiamo che non può essere lui a toglierci da questo problema, dalle sabbie mobili di un pareggio frosinone dopo che abbiamo già pareggiato a Malassia. E invece è proprio lui, è Dujan Vlaovic, a fare tutto il resto. Devo dire che il migliore in campo della Juventus nel globale, ovvero Weston McKinney, si permette di guardare in mezzo e scegliere come e dove dosare il traversone che porterà alla grande inzoccata di Dujan Vlaovic, un po' Boninsegna, un po' Bettega, palla che prende sul colpo di testa un effetto, una rotazione, una forza che scende sotto la traversa e nulla può Turati. Un bellissimo gol, quest'anno Vlaovic ha segnato soltanto gol belli e purtroppo per lui, e questo lo ha condannato anche alla diffidenza dei propri tifosi fin qui, non ha fatto quelli più semplici, ma si può sempre ripartire. Penso che questo sia un gol pesantissimo, un gol di splendida fattura, un gol che vale 4 punti e spero e conto sul fatto che possa valerne, non so, almeno altri 6 se è vero che Vlaovic riuscirà a far vedere tutto quello che ha riuscito a far vedere in 20 minuti. Farò vedere con la Roma, farò vedere con la Sernitana e chiudere il giorno d'andata almeno di una partita dell'Inter. Voglio dire questo, questo può essere un buon obiettivo per continuare a sognare. Segna anche il secondo gol personale, c'è anche la doppietta di Vlaovic, ha annulato il gol poi per fuorigioco, era scattato ai 30 metri, poi col sinistro aveva anche in questo caso liquidato Turati sul palovicino, ma non chiediamo troppo. Io avrei preferito la doppietta di Dusa, ma se l'ha tenuto per la Roma va bene lo stesso. Non importa, intanto è Juventus che vola a un ponteggio che nessun tifoso poteva pronosticare prima di affrontare questo ciclo in cui la Juve resta imbattuta proprio dai tempi di Reggio Emilia e ritrova la vittoria nonostante una gara da sei e mezzo. Ma la trova con le stelle, la vittoria con le stelle di Natale, Ildiz e Vlaovic. Ciao a tutti, buone feste, continuate a seguirci, commentate qui, MVP, Western McKinney, dite la vostra. Ciao!